E' un trappello per un Cristiano Ronaldo deludente come deludente dal suo Portogallo ma che ha tutte le possibilità di qualificarsi dallo stadio De Rion Un saluto da Maurizio Compagnoni E Luca Marcheggiani Allora lì giù c'è anche a cercare proprio Salai Altri di tutto è stato Cristiano Ronaldo con piede di testa e la pallone che Di bene d'attacco però che la avrete! Golla dell'Ungheria! Gran golla! Pro a puntare qui Poi il nostro Salai mette il motto con le sue leve Poi la spatta con il cuore avendo da Carmaio E parte il tiro! E' da regolare la posizione Partire Ronaldo perché rimbazza Chi va che non si va a sorprendere la mette a carciola d'angolo Pali verticale Attenzione Ghani Tiro a rete! Ghani Pali del Portogallo Alla 40esimo Restabilita la parità del Portogallo in questo momento e di nuovo negli ottavi Partire giù c'è anche il pre-devenzione Rendezza E Lugheria ancora in vantaggio Giù c'è anche Giovanio che si provano a destra La città tende Andre Gomes Il lacrosse bene Rolando di tacco Rendezza con il meraviglioso Che meraviglioso E' lui E' il fenomeno E' il CR7 Arriva Lorenzzi in sua posizione Giù c'è anche il tiro Giù c'è anche Incredibile Lugheria ancora in vantaggio Ancora giù c'è Ancora con una deviazione Grosse di Quaresma Ronaldo Ronaldo 3 a 3 Tacca con l'Ungheria E REC Ha spaccato il palo Un palo interno Impossibile che il pomone non sia entrato E' impossibile Quarto il cronetro L'arbitro Altischietti in bocca Primo della Lione Grisce 3 a 3 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti